Musica Padula ha inaugurato il percorso Il Cammino delle Certose, Vanessa Bicroft e 300 figuranti protagonisti della serata. Frana Auletta, solo metà delle offerte valutate, il sindaco Pessolano promesse disattese. Sant'Arsegno, l'amministrazione comunale pica in regione per i finanziamenti bloccati per l'efficientamento energetico. Padula, dall'idea dell'associazione Grotta Brigante e Cacio nasce il Cacio Brigante, ieri la presentazione ufficiale. Salernitana, oggi inizia il ritiro degranata con una rosa senza portiere e attaccanti. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. La Certosa di San Lorenzo a Padula ha aperto ieri sera la serie di inaugurazioni di mostre per il Cammino delle Certose. Il progetto turistico, fortemente voluto dall'assessore regionale al turismo Corrado Matera, che ha unito la Certosa di San Lorenzo alla Certosa di San Martino di Napoli e San Giacomo di Capri. Vanessa Bicroft ha aperto la serata con la mostra 13 Christ, a seguire la performance con i 300 figuranti del ballo di Diano. Parte dalla Certosa di San Lorenzo a Padula il Cammino delle Certose, che per la prima volta crea un itinerario turistico unico che comprende i tre principali monumenti certosini presenti in Campania. Per la prima volta la Certosa di San Lorenzo a Padula, tra le più grandi di tutta Europa e la più grande d'Italia, con gli oltre 50.000 metri quadri di superficie, di cui ben 30.000 coperti, viene legata alle antiche e più note Certosa di San Martino a Napoli e di San Giacomo a Capri, attraverso un percorso artistico ed espositivo con mostre di grande interesse culturale e che abbracciano tutti i gusti. Ieri sera a Padula, il primo evento inaugurale con la mostra di arte contemporanea della grande artista internazionale Vanessa Bicroft, che ha realizzato per questo appuntamento una performance all'interno del refettorio con 13 performer selezionati dall'artista immobili su un tavolo ed una ulteriore performance che ha coinvolto tutto il Vallo di Diano con la partecipazione di 300 figuranti reclutati nella serata di ieri e che hanno sfilato dall'ingresso della Certosa fino al Chiostro Grande. Il video realizzato direttamente dall'artista sarà proiettato nei prossimi giorni nella Sala del Tesoro, un'iniziativa su cui punta in maniera decisa l'assessore al turismo della Regione Campania, Corrado Matera, che attraverso il percorso del Cammino delle Tre Certose punta ad una promozione della Regione Campania e della sua storia anche fuori dai confini nazionali. Un impegno che, come sottolineato dall'assessore Matera, ha però bisogno anche di essere supportato dal territorio. Io penso che questa sia una grande occasione, una grande opportunità per il Vallo di Diano. Si tratta di tre luoghi simbolo che si mettono insieme, si raccontano insieme. Le Tre Certose, Capri, Napoli e la Certosa di Padula. È un'iniziativa che dà vita ad un itinerario turistico, culturale e religioso che va proprio nella direzione che abbiamo tracciato, l'integrazione territoriale. Io penso che questa iniziativa, collegata ad un'altra che abbiamo messo in campo, che è quella dei Cammini dell'Anima, io sono convinto che daranno davvero grande rilevanza a questo territorio perché stiamo provando a fare in modo che il Vallo di Diano, così come il Cilento, esca un po' dall'isolamento. Noi abbiamo la Certosa di Padula che, a mio avviso, è la Certosa più bella d'Europa. Però forse negli anni non ho avuto la visibilità, la fruizione che merita. Io sono convinto che questa è ancora un'altra occasione che diamo al territorio. L'invito che faccio però al territorio è che questo è il momento di stare insieme perché sono diverse le iniziative che abbiamo concentrato su questo territorio. Questa, che io ritengo sia una delle più importanti, come dicevo prima, che si va ad integrare con un'altra che i Cammini dell'Anima, che interesseranno anche questo territorio, attraverso anche dei percorsi che andranno alla riscoperta anche di itinerari naturalistici. E poi anche l'operazione di Italo Bus, come la settimana prossima andremo a presentare anche un'altra grande iniziativa che è collegata all'autostrada del Mediterraneo e che attraverso questa iniziativa creeremo degli itinerari turistici che partiranno anche dal Vallo di Diano verso le aree interne, alla riscoperta della via della fede, della storia. Insomma, voglio dire, ci sono davvero le condizioni. Però io penso che questa sia una grande opportunità, come dicevo prima, ma invito tutti ad essere uniti. Io penso che questa volta davvero ce la possiamo fare. E ieri sera a Padula era presente il sindaco Paolo Imparato che, come evidenziato anche dall'assessore Corrado Matera, ha sottolineato l'importanza della collaborazione chiedendo un forte impegno alle strutture ricettive per offrire una qualità dei servizi soddisfacenti. Davide Cancellaro, titolare dell'Hotel Villa Consilinum, ha condiviso l'idea, sottolineando come le strutture che insistono sul territorio sono pronte ad accogliere i turisti. Ascoltiamoli. Io sono molto fiducioso perché questa volta la nostra fortuna è quella di avere un assessore alla cultura e al turismo Corrado Matera, che è del nostro territorio, che conosce bene le problematiche che abbiamo avuto in passato e che finalmente sta facendo delle cose importanti e veramente di grande spessore. Quindi il fatto che la Certosa, della Certosa di Padula, se ne incomincia a parlare a Napoli e a Capri, questo è un grande risultato che bisogna dare atto e un merito che aveva dato finalmente a un assessore del nostro territorio. Poi l'amministrazione comunale deve fare la sua parte, cioè mantenere gli spazi antistanti alla Certosa puliti, la pista ciclabile pulita, cioè stare attento al decoro urbano. Praticamente noi dobbiamo lavorare in sinergia, questa sinergia con la regione, con l'assessore e l'amministrazione comunale c'è, quindi io sono molto fiducioso, non è l'unica iniziativa, questa è un'iniziativa sicuramente forse la più importante, anzi la più importante. Ieri sono stato a Caserta che c'era l'incontro dei 53 siti UNESCO di tutta Italia, quindi Padula diventerà socio dei 53 siti UNESCO di tutta Italia e la mia proposta ieri è stata quella di mettere in rete gli otto siti UNESCO, i due in materiale, quelli di Nola e la Dieta Mediterranea, e i sei siti UNESCO, la città di Napoli, Pestum, Veli e Padula, di fare una cosa insieme, tant'è vero che la mia proposta è stata quella di fare assemblee, incontri itineranti e il prossimo incontro dei siti UNESCO della Campania si farà qua a Padula, incertoso. Bisogna lavorare, lavorare tantissimo, devono crescere i privati, devono crescere le attività ricettive, devono crescere i bar, devono dare servizi all'altezza di quello che merita Padula e merita la certosa. Noi siamo pronti e penso l'abbiamo dimostrato, questo lo dovranno dire gli artisti, perché una buona parte di tutti gli artisti che oggi hanno messo in piede questa grande giornata, questo grandissimo evento di tiratura internazionale, Vanessa, questa signora, l'artista, è conosciuta un po' in tutto il mondo per quello che fa. È chiaro che più eventi di questo tipo portano sicuramente gente e portano economia a un territorio. Un applauso all'assessorato che ha accolto questo momento, quindi di unire queste tre certose, questo bellissimo progetto regionale e quindi un ringraziamento all'assessorato, quindi al carissimo Matera. Sono eventi che chiaramente importantissimi, importantissimi perché il respiro non è più un respiro circoscritto e quindi territoriale, ma è un respiro ampio e quindi quasi a tiratura mondiale. Questa è una grandissima giornata, io non a caso ho voluto anche partecipare. Per quanto riguarda l'accoglienza, io credo che sia qui alle nostre spalle, il grande hotel Certosa, sia la nostra struttura Villa Cosilinum e tutti gli agriturismi e tutte le strutture recettive oggi a Padula sono in grado di offrire veramente qualità e servizio, per non parlare dell'ottimo cibo. Passiamo alla cronaca. Un giovane di 27 anni, Paolo Piconi, originario di Padula, trasferitosi da tempo nel nord-est Italia, giovedì sera è morto investito da un treno merci presso la stazione di Manzano in provincia di Utine. Sulla tragedia sta indagando la polizia, tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. Incredulità e sgomento per tutta la comunità padulese. Continuiamo con la cronaca. Un ospite del centro migranti di San Marco di Teggiano è entrato in un bar del posto e dopo aver rotto una bottiglia ha minacciato il barista e i clienti. Il ragazzo, un ventenne con problemi psichici, è stato bloccato da quattro persone e affidato poi al personale del 118 e ai carabinieri intervenuti subito dopo essere stati allertati. Si sono montate le polemiche da parte dei residenti della zona. Ancora cronaca, è stata una fuga di gas a causare l'esplosione di un appartamento a Centola. Una 38enne è rimasta ustionata. Tutto si è verificato ieri sera, poco dopo le 10, in un piccolo appartamento al primo piano di una palazzina nel pieno centro cittadino. Il gas quasi certamente aveva saturato l'ambiente e l'innesco dell'esplosione sarebbe stato dovuto all'accensione della luce in una delle camere da parte della donna che in quel momento era sola in casa. Ha riportato ustioni di primo e secondo grado su quasi tutto il corpo. Si trova ora presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. E cambiamo argomento. Il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, torna a parlare della vicenda legata alla frana sulla strada statale 19 delle Calabrie. Oltre 50 le offerte da valutare da parte dell'ANAS. La stessa ANAS aveva promesso al primo cittadino che entro fine luglio sarebbe stata effettuata la giudicazione provvisoria dei lavori. Tuttavia, ad oggi, riferisce il sindaco, sono soltanto 27 le pratiche prese in esame. Il che vuol dire che le promesse relative alla fine dell'espletamento degli atti entro fine luglio verranno disattese. Rammaricato, il sindaco Pessolano ha annunciato la convocazione del Consiglio Comunale per la prossima settimana per fare il punto della situazione. Vediamo. Si avevano assicurato che per la fine del mese di luglio di questo anno, e non di quale anno che sarà, avrebbero aggiudicato, avrebbero fatto la giudicazione provvisoria per l'attività della 19 delle Calabrie. E quindi il mese di agosto sarebbe servito alla vacanza dei 40 giorni, per poi aggiudicare definitivamente i lavori a metà settembre. Stanno appena, o meglio già da ieri, che ho cominciato a prendere notizie, anche se loro mi avevano detto di chiamare entro il 15 luglio e non prima del 15 luglio. Io mi sono preoccupato un attimino prima e ho cominciato a chiamare i miei. E quindi mi sono accorto, purtroppo, che sono arrivato ad aprire le busche, quelle offesse, soltanto alla metà delle busche. E da pagare sono sempre, assolutamente sempre, i nostri cittadini, i cittadini del territorio. Quindi io da subito che cosa posso fare? Anche se sono le mie e quelle del mio consiglio comunale, nonché i miei cittadini, sicuramente non sono attività che possono essere efficaci. Ma sicuramente io già subito completerò un consiglio comunale sul luogo, sul luogo dove c'è la prana, per martedì alle ore 18.30, per protestare il lungo di tarte. E secondo me adesso devo aggiungere anche l'inertia dell'Ana, che non mantiene, diciamo, le promesse che aveva fatto. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, entra nel vivo delle sue attività. Individuate alcune priorità ora in campo per una rapida risoluzione, come ad esempio per quel che riguarda i lavori di efficientamento energetico non ancora finanziati. A Sant'Arsenio idee chiare per il lavoro su cui l'amministrazione comunale vuole concentrare le proprie energie. Come annunciato in fase di insediamento, il sindaco Donato Pica ha immediatamente cercato di inquadrare lo stato dell'ente comunale per creare un'agenda delle priorità. Nella valutazione delle documentazioni e degli atti del comune, ha notato il mancato finanziamento giunto per la realizzazione di lavori già eseguiti e per lavori in corso di esecuzione, come ad esempio lavori di efficientamento energetico sulla casa comunale, che seppur eseguiti non hanno ancora ottenuto la copertura finanziaria per la mancata consegna della documentazione necessaria. Da qui l'impegno immediato dell'amministrazione comunale con il primo cittadino Donato Pica, accompagnato dal vice sindaco Rosario Capozzolo e dal presidente del Consiglio Angelo Raia, che si sono recati in regione per incontrare l'avvocato Franco Alfieri, delegato all'agricoltura e capo staff del presidente della regione, e sottopogli le pratiche attualmente sospese relative appunto al finanziamento dei lavori di efficientamento energetico sulla sede municipale e alla ricostruzione dell'Alea Sud dell'ex ITC. Noi cerchiamo di avviare a realizzazione il programma che è stato presentato agli elettori e ai cittadini di San D'Artenio. La realtà che abbiamo trovato esaminando gli atti è sicuramente molto più complessa e molto più articolata di quella che pensavamo, per cui occorre innanzitutto procedere al recupero di alcuni ritardi e alla regolarizzazione di molte pratiche con la regione Campania, alcune anche rilevanti, come ad esempio l'efficientamento energetico della sede municipale, in cui i lavori sono stati già eseguiti, anche se in difetto della convenzione che poi autorizza la riscossione delle somme. Lo stesso d'Incasi per la ricostruzione dell'Alea Sud dell'ex ITC, oggi scuola media, nello stesso modo è stata espletata la gara d'appalto, ma manca ancora la contralizzazione che consente appunto poi di percepire gli stati di avanzamento. Quindi queste sono, come dire, problematiche abbastanza critiche che abbiamo sottoposto all'attenzione dell'Avvocato Alfieri, che è il nuovo capo segreteria del Presidente De Luca, per cercare di inserirci in alcune linee di priorità che sono state molto recentemente deliberate dalla regione Campania. Insomma, questo è il primo obiettivo, sistemare le pratiche in itinere. Poi ovviamente ci siamo intrattenuti su una panoramica di carattere generale, su quelle che sono le prospettive a medio e a lungo termine, partendo però dal presupposto che il Comune di San Castello intende comunque partecipare a tutti gli avvisi di gare, a tutti i banchi per l'ottenimento dei fondi europei. Quindi sicuramente c'è tanto lavoro da fare. Dobbiamo da un lato pensare al miglioramento, all'adeguamento, alla messa in sicurezza di quelle che sono le strutture immobiliari, incominciare dalle scuole, sicuramente ci sono delle esigenze dalla scuola elementare e materna alla media, come ho già spiegato. Però abbiamo anche delle infrastrutture stradali in particolare o sottoservizi. Abbiamo parlato della rete itica, ma lo stesso di per gli impianti elettrici, per la rete Cognara, per i depuratori. Insomma, comunque va fatta una revisione di carattere generale per poi puntare, come pensiamo in una seconda fase, ad altre iniziative che possano promuovere occasioni di sviluppo e di movimentazione del contesto sociale di Sant'Arsenia. Dopo le tante polemiche dei giorni scorsi, ieri pomeriggio è stata stipulata la convenzione tra la Regione Campania e i Vigili del Fuoco per il servizio anti-incendio. Ad annunciarlo in una nota ufficiale il Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Come ogni anno, ha detto Bonavitacola, la convenzione regola le attività per il periodo dal 15 luglio al 15 settembre, con la novità di un significativo incremento di risorse deciso dalla Regione in accoglimento della proposta del Comando regionale dei Vigili del Fuoco di potenziare il servizio con squadre operative dedicate. E cambiamo argomento. L'edizione 2017 del campo estivo per ragazzi e state liberi sul valore della legalità organizzato dal Comune di Sassano, tra le varie attività, prevede delle uscite sul territorio. I bambini sono stati a lezione di legalità con i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Sala Consilina. È in corso l'edizione 2017 del campo estivo per ragazzi e state liberi sul valore della legalità organizzato dal Comune di Sassano in collaborazione con l'Associazione Amici della Biblioteca di Sassano. Educatrici specializzate in diversi settori stanno accompagnando i giovanissimi partecipanti, che ad oggi sono 50, a scoprire il valore della legalità in tutte le sue forme, dal rispetto per l'ambiente e per il proprio territorio a quello delle regole. Al fine di educare i ragazzi sul tema e di farlo soprattutto attraverso il divertimento, sono previste uscite e visite in giro per il Vallo di Viano, come quella fatta presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina, dove i bambini sono stati accolti dal capo squadra Luigi Morello, che ha tenuto una lezione sui pericoli che si possono incontrare e come comportarsi in quei casi. La parte teorica è stata accompagnata dall'illustrazione delle attrezzature di soccorso e dell'autopompa, che è stato il momento più affascinante per i piccoli, i quali hanno prestato tanta attenzione a tutto ciò che li circondava. Nella stessa giornata si sono recati poi presso la sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, dove hanno incontrato l'ispettore capo Rufino Tortora, che li ha accompagnati in un altro intrigante viaggio nei locali della caserma e ha soddisfatto tutta la loro curiosità rispondendo alle tantissime domande. Il campo estivo proseguirà fino al prossimo 22 luglio, tra laboratori vari sulla comunicazione, lo sport, l'ambiente, l'arte, la musica e la conoscenza della lingua inglese, curata da un'educatrice madrelingua. Il tutto con l'obiettivo di agevolare le famiglie e tenere i ragazzi impegnati in attività costruttive e istruttive. E adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Creare sviluppo e turismo intorno al culto e alla devozione della Madonna della Neve è possibile. L'arci confraternita Maria Santissima della Neve ha indetto un concorso per divulgare le tradizioni e la devozione alla Madonna tra i partecipanti e anche gli alunni delle scuole medie. 19 racconti profondi e intensi, 19 elaborati selezionati dalla Scuola Media di Sanza ed inviati all'arci confraternita Maria Santissima della Neve per partecipare al concorso indetto dalla storica confraternita al fine di far conoscere le tradizioni, la devozione e la fede dei sanzesi nei secoli verso la Madonna della Neve del Cervati. Nei giorni scorsi si è riunita la giuria del premio presieduta dalla professoressa Rita Giordano Eboli per valutare gli elaborati presentati. Silata la graduatoria di merito, i vincitori saranno decretati il giorno 5 agosto, festa della Madonna della Neve. A cimentarsi con il concorso tutti gli alunni della Scuola Media di Sanza. I docenti hanno poi effettuato una prima selezione degli elaborati inviando alla giuria del premio solo i migliori 19 temi. Un lavoro attento e minuzioso della commissione esaminatrice ha decretato i tre vincitori che saranno ufficializzati e premiati durante la celebrazione della festa della Madonna della Neve. Grande soddisfazione è stata espressa dal priore della millenaria arci confraternita Antonio Laveglia. Abbiamo apprezzato molto l'impegno dei ragazzi allo studio e alla ricerca di aneddoti della tradizione orale che ripercorrono le vicende che legano la Madonna della Neve ai sanzesi, ha riferito Laveglia. L'amore e la fede dei giovani, dei ragazzi, verso la Vergine Maria del Cervati dimostra come questa tradizione vissuta con passione nei secoli dei sanzesi non potrà mai terminare. Un ringraziamento particolare va ai membri della commissione giudicatrice del premio per l'importante lavoro svolto. Un lavoro, conclude il priore Laveglia, che deve proseguire anche negli anni a venire. La nota casa editrice Area Blu realizza una guida turistica interamente dedicata all'area cilentana. In 156 pagine racconta 12 itinerari turistici con indicazioni anche dedicate all'enogastronomia locale. Il Cilento ha una sua guida turistica con relativa cartina. La nota collana editrice Area Blu ha realizzato una guida turistica composta da 156 pagine più relativa a cartina per raggiungere i posti più suggestivi della costa cilentana sotto il nome di Cilento, 12 itinerari tra natura, arte e cibo. Partendo dai templi di Capaccio Pestum attraversano le aree di maggior pregio naturalistico, culturale, storico ed enogastronomico. A realizzare la guida turistica acquistabile sul sito di Area Blu Edizioni, Tony Isabella, cilentano doc, che negli anni ha dedicato la sua vita alla valorizzazione e promozione della dieta mediterranea volando fino in Brasile e promuovendo la gastronomia e le bellezze cilentane in tutta l'America Latina. La guida di Area Blu raccoglie così l'eccellenza di un'area ricca per paesaggio, ambiente, arte, storia, cultura e prodotti culinari attraverso la descrizione di 12 itinerari da scoprire. Parco archeologico di Pestum, Castellabate e Punta Licosa, Acciaroli, l'oasi del WWF di Morigerati, le sorgenti del Sammaro e Roscigno Vecchia, il patrimonio unesco di Elea Vellea, sono solo alcuni degli itinerari raccontati nella guida che si presenta anche come un utilissimo manuale per il turista dove potrà trovare anche le indicazioni sui posti dove poter mangiare e comprare prodotti locali, così come sono inseriti anche i principali eventi meritevoli di attenzione e dove il turista potrà divertirsi e godere della cultura cilentana. Il cilento ad altezza d'uomo di quello che si può vedere solo se si è disposti ad una visita non superficiale ma fatta sulle proprie gambe per vivere appieno un'esperienza magari breve ma basata sulla partecipazione di tutti i vostri sensi. È così che Tony Sabella descrive il volume di cui è autore acquistabile attraverso il sito ufficiale di Area Blu, la casa editrice che si occupa prevalentemente di realizzare volumi dedicati proprio alla promozione dei territori italiani. Una guida ricchissima ma che potrebbe ulteriormente ampliarsi non essendo compresi nel suo interno altri interessantissimi itinerari che abbracciano la costa cilentana e aree limitrofe come ad esempio Laurino e il suo volo. È stato presentato ieri pomeriggio presso la certosa di San Lorenzo a Padula il cacio brigante, il caciocavallo di Grotta del Cervati nato dall'intuizione dell'Associazione Grotta Briganti e Cacio. È ufficialmente un prodotto commerciale a norma di legge avendo ottenuto l'autorizzazione sanitaria per la stagionatura nelle grotte montane di Monte San Giacomo. Il gruppo di amici ha fortemente creduto nella possibilità concreta di costruire un futuro migliore per la propria terra valorizzando ciò che ha ricevuto in eredità dalla tradizione. Teatro e terra, teatro e territorio è il connubio su cui si fonda tutto il progetto di Grotta Briganti e Cacio, un programma di valorizzazione del rapporto della tradizione e innovazione. Ieri la presentazione del prodotto. Abbiamo raccolto le parole del sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta, di Giuseppe Fornino, direttore del servizio sanitario, igiene, allevamenti e produzioni zootecniche dell'Asla di Salerno, del professor Luigi Mauriello, dell'Università Federico II di Napoli e di Carmine Lisa, membro dell'Associazione Grotta Briganti e Cacio. Ascoltiamoli. Oggi l'Associazione Grotta Briganti e Cacio, avendo ottenuto anche l'autorizzazione e quindi il riconoscimento di un prodotto inserito in quello che sono gli elenchi regionali, dei prodotti tipici, è chiaro che ha voluto anche divulgare questa notizia a tutti per dire che c'è questo prodotto riconosciuto, certificato e anche, se vogliamo, studiato a livello universitario. È chiaro, noi come anche amministratori di Monte San Giacomo abbiamo voluto assecondare, abbiamo voluto accompagnare questa iniziativa da alcuni anni, ritenendola una iniziativa ludevole che, ripeto, non solo si promuove un prodotto tipico nostro fatto in un certo modo, ma che promuove anche il territorio e anche, se vogliamo, i costumi, gli usi, le tradizioni. Allora, ecco, questo, per quanto ci riguarda, significa fare un tipo di turismo diverso, un turismo legato al territorio e a quello che si fa nel territorio. Noi abbiamo registrato tutta la filiera di questo prodotto in base a una norma particolare che prevede anche delle deroghe relativamente alla produzione di questo prodotto laterio caseario. quindi, in realtà, siamo in regola con quella che è la normativa. È ovvio, noi non possiamo fare il tifo per un prodotto o per un altro, naturalmente, perché noi siamo un'istituzione e dobbiamo rimanere neutrali. Però, naturalmente, possiamo dire che questo prodotto ha tutte le garanzie perché è certificato. Tra l'altro, appartiene alla filiera cosiddetta corta nel senso che il campo e la tavola sono vicini e quindi abbiamo la certezza che gli allevamenti sono provati, quindi testati, abbiamo la certezza della bontà della lavorazione e quindi anche della stagionatura che è la parte, diciamo, proprio in deroga alla normativa perché la normativa non prevede la stagionatura in grotta se non per deroga in relazione a particolari situazioni. L'università, come ogni volta l'università entra in progetti di questo tipo, ci mette la parte di ricerca. Cioè, ricerca ciò che è la tipicità del prodotto dal punto di vista scientifico. Quindi, i microorganismi che caratterizzano il prodotto, il prodotto dal punto di vista chimico-fisico, quali sono le caratteristiche uniche del prodotto. Noi speriamo di riuscire ad arrivare anche ad altre cose tipo le caratteristiche organolettiche del prodotto, quindi fare dei pane, organizzare dei pane che potranno individuare le caratteristiche organolettiche che sono tipiche di questo prodotto e dargli una vera e propria patente. Qual è la caratteristica che avete scoperto particolare di questo prodotto? I microorganismi. Il tipo di microorganismi che popolano la grotta e che intervengono nella maturazione del formaggio, nell'affinamento del formaggio. Penso che sia un obiettivo importante. Noi siamo partiti quattro anni fa con una sperimentazione seguita dall'Università Federico II, partendo da un'idea, cioè quella di valorizzare una delle eccellenze del nostro territorio. Quindi è un processo che è durato quattro anni, che è partito dalla ricerca storica, perché siamo arrivati a questo risultato anche grazie alle informazioni raccolte dai nostri pastori. Quindi un mondo da raccontare che si racconta con un prodotto tradizionale. E l'obiettivo della nostra associazione è sicuramente quello di dare un valore aggiunto a una produzione storica e questo ci sembra un modo intelligente per farlo. E passiamo allo sport. A Roccaporena e Granata hanno iniziato il ritiro in vista della prossima stagione. Sul fronte mercato si lavora per dare a Bollini i giocatori che ha richiesto. Servono portieri e attaccanti. Conclusa la fase di test medici e fisici a Salerno, la truppa Granata da oggi è in ritiro in Umbria, Roccaporena, dove vi resteranno fino al prossimo 30 luglio. Con un mercato decollato solo in uscita, il DS Fabiani e il suo staff sono al lavoro per accontentare le richieste di Mr. Bollini. In particolare resta da sciogliere il nodo portiere Saltati, gli affari Pegolo e Seculin. L'Otito spinge per la soluzione interna il portiere lituano della Lazio, Adamonis, che però pare non convincere il tecnico. Per la mediana la riconferma di Minala si aggiunge al quasi certo arrivo dell'ex Perugiar Ricci via Roma, con la quale ha preso parte al ritiro di Pinzolo. In attacco serve una prima punta e negli ultimi giorni si è aperta la pista a Maniero che, dopo aver rifiutato la Salernitana due stagioni fa, è pronto ad abbracciare la causa del Cavalluccio Marino, anche se in questo caso a Bollini piace di più Bocalon. Come esterni offensivi, i nomi sono quelli di Dumbia, Via Lecce, Guberti del Perugia, Di Roberto e lo svincolato Bellomo. Sta di fatto che la Salernitana inizia il ritiro senza portieri e attaccanti, una situazione che ha costretto la società ad aggregare nei 25 diversi elementi della formazione primavera. Fino ad oggi il mercato Granata non è certo stato degno delle aspettative dei tifosi che però sperano in un colpo di mano del DS Fabiani, pronto a costruire una rosa in grado di competere per le zone nobili della classifica. Dopo aver sfiorato i play-off lo scorso anno, i supporters sognano la post-season, ma le partenze di questo inizio mercato non certo sono di buon auspicio. Tuttavia, ha i risultati sul campo il compito di emettere le proprie sentenze. Termina qui il nostro telegiornale. Vi ringrazio di averci seguiti e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.